è solo il tuo problema questa c'è anche la volpe su che pesa c'è anche la volpe che pesa quindi anche perché non la scastro neanche da qua io sempre quello quando riesco e dove porti giù a me in braccia ma scendo zone scendo zone è solo il vito che riesce qua e si beh a te a parte che poi alla fine non è che ho alla fine ti fermi lì nel senso ma che quanto è staccata la pianta ma se mi hanno il posticino li faccio io e non c'è mica sotto il patello scusami eh io qua metto il patello quando arrivo Robi noi non hanno l'esperienza gli dicono non c'è mica il patello noi mettiamo il patello quando passiamo di qua patellino siamo a posto eh non ce l'ha il patello non ce l'ha il freno lui sono qua in una brutta posizione come solito però per lo meno si ferma la moto ti passa su giù eh certo è più difficile tirar su la moto di te però io però adesso non saliamo più se lo io 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 se lo scusami il cancello si ferma da solo è talmente pesante ha mai fatto un verso così? mi hai ripreso? ma va dai quattro tepi ma la mia tacchetta massimino Dov'è? Secondo nocciolo, buona posto. Massimo era giusta come impostazione, è l'ABS che non ha attaccato. Allora mi dovete far male? Sto filmando, è un po' bagnato. Dov'è trovato il gas. Un trappino ce l'hai? Un trappino, ce l'hai attaccato? La rotella e il coperno. Ma che ti vedo lo stesso eh? Max, ti vedo lo stesso eh? Oh! Riesco a guardare eh? Riesco a guardare il gas. È così sopra nella rotella. Riesco a guardare.